benvenuti nuovamente sul tavolo della mia cucina nella mia guest house questa bellissima confezza di cucina me l'ha regalata una donna giapponese i giapponesi sono troppo tenere, ti fanno sempre un sacco di regali infatti se guardate il mio altro video vedrete che una ragazza mi ha portato un pasticcino a forma di orsetto e questa invece è yokan, yokan è una tradizionale gelatina servita come dessert ce ne sono tre tipi diversi in questo pacchettino adesso lo apriamo così faccio colazione ok in questo pacco c'è questa verde che è colt'è verde, questa invece è colt'è nero mentre questa qua di solito è quella che trovate più spesso, la più tradizionale con gli azuchi, fagioli rossi, zucchero e gelatina di argan ci sono tantissimi tipi di yokan, ci sono anche le patate dolci, tipo patate viola, dipende da dove andate ci sono tanti tipi diversi, ce ne sono tipiche proprio solo del luogo che trovate in alcuni luoghi ecco come si presenta dentro, è un panetto abbastanza scuro alcune gelatine tra l'altro hanno proprio anche pezzettini di fagioli ma in questo caso no come la si mangia? La si può mangiare così o la potete mettere tipo in altri dolcetti quindi potete fare un mix col gelato, yokan, mochi e altre cose seguita la mia playlist sul Giappone ed iscrivetevi al mio canale grazie per guardare i miei video, caffè e cappuccino ciao ciao